Ok, adesso sta registrando, bene Quindi inizieremo a parlare di Bitcoin un po' anche per chi magari non è riuscito a entrare nel dip Magari perché non era nella community O perché è entrato in ritardo, semplicemente era distratto Per qualunque motivo, se non siete riusciti ad accumulare nelle zone che avevamo consigliato durante i dip Parleremo un po' di come questa cosa potrebbe offrirvi opportunità e in quale situazioni Quindi parleremo più che altro di dove poter recuperare Questa sarà la prima parte, non sarà troppo lunga perché ovviamente sapete che la maggior parte delle analisi le facciamo tutti i giorni Seguiamo il mercato 24 ore su 24 Quindi chi è qua dentro è aggiornato sempre su tutto, notizie, Bitcoin, analisi tecnica Siete continuamente aggiornati, quindi non ci sono segreti che magari qualcosa che tengo in segreto Tipo un asso della manica che mi voglio tirar fuori all'ultimo secondo Quindi andremo a vedere un po' di strumenti, un po' di cose Fate delle domande, come ho già detto, questo aiuterà a interagire Anche per non far sì che magari ci sia solo una parte che sono io che parla Quindi per quello che c'è la live Comunque quindi domande e cose del genere che solitamente molte persone fanno Quindi non è un problema Allora iniziamo intanto, questo è Logarith Mixar Mi dico un mio amico che mi ha fatto conoscere le cripto due anni fa Lo me lo dico perché mi ha fatto investire nel bull market Questo è un problema che tutti hanno avuto, mi sa La maggior parte è qua che ha avuto Comunque adesso parliamo anche di quello E di come poter gestire questa cosa psicologica Anche in futuro, comunque ricordatevi una cosa Nessuno si è mai approcciato al mercato né delle cripto Nel mercato degli stock senza perdere soldi È quasi un biglietto d'accesso quello di perdere soldi Quello lo dicono i più grandi trader, i più grandi investitori del mondo Quindi se avete perso soldi non avete fatto altro che fare chiunque fa Entrare nel mercato, cioè perdere soldi Perché questo è il primo passo Poi ovviamente 80% delle persone che perdono soldi Li lasciano subito e quindi non hanno idea di come recuperare Perché pensano che è una fregatura Pensano che è un... E poi ne rimangono pochi nel gioco Ne mancano quel 10% Su quel 10% nei primi un anno o due c'è chi molla Quindi quasi un 9% molla E rimane quell'1% che non molla Rimane lì solido a prendere e sberle finché non capisce E finché non comincia a usare questa cosa a suo favore Questo è il fatto, sapete che ogni tanto si sentono La frase Il 70-80% dei trader e investitori perdono soldi sul mercato Detta così sembra che sono tutti stupidi In verità il motivo è che già l'80-90% molla dopo i primi mesi E un altro forse il rimanente percentuale la maggior parte molla dopo un anno o due E quindi chi rimane quegli anni che servono veramente per diventare trader o investitori Sono veramente pochissimi Ma questo non è dato dalla difficoltà Semplicemente come se andassi a scuola di medicina Di dottorato e molli dopo che hai fatto 3 anni Perché è troppo difficile Non vuol dire che non puoi diventare dottore Semplicemente non hai avuto la pazienza di studiare Quindi come tutte le discipline Trading e investimenti ci vuole tempo Questa è una cosa che non si può evitare purtroppo Anche perché come ho detto ci sono tante volte Ci sono state volte in cui ho detto alle persone Di investire in un determinato momento E di avere pazienza E non l'hanno fatto E poi sono rimasti deluse perché non erano entrate Quando era il momento di entrare Quindi come capite non serve semplicemente uno come me Che magari vi aiuta O serve semplicemente un'analisi tecnica Ma il 90% verrà più che altro da voi Siete voi che schiacciate quel bottone Alla fine del giorno E che prendete le decisioni E se sapete quanto potete rischiare Quindi questo è Però io conosco tantissimi Tantissimi trader Anche qui c'è una mia Una collega all'università Che è suo fratello È un quantum trader E ovviamente parlo tantissimo con lui E lui me lo dice ovviamente Che perdono un sacco di soldi All'inizio Fanno un sacco di cavolate Ma per tantissimo tempo Però provano la strategia Una, due, tre volte Finché a un certo punto Uno dice Se è una cosa Sono rotto le balle Di prendere sballe da questo mercato Voglio essere più Anche loro hanno questi problemi E parlo di gente che muove milioni E certe volte Quindi è un problema che hanno un po' tutti Però Iniziamo un tanto con bitcoin Allora bitcoin in questo momento Come vedete Abbiamo ovviamente Un'accelerazione Rialzo Da quando è arrivato al fondo qui Poi vi farò capire perché Quando è arrivato in queste zone Per me era una zona di buy E ho invitato più gente A entrare in queste zone Mi lascia stare il rumore Molti da qui dicevano Aspetto che arriva a 20.000 A 10.000 Quando è sceso qui Questa è una cosa che ho visto Non so se qualcuno qua in chat Vuole ammetterlo Quando è arrivato a 16.000 Ho visto gente in chat Che dice Ma adesso io sono sicuro Che arriva a 12.000 10.000 Comincerò a prenderlo da lì E io ho sempre detto È vero È vero Anche il mio target A lungo termine Però Questa non è una cosa Che noi sappiamo Potrebbe E poi noi vogliamo sfruttare Tutti i movimenti del mercato Perché alla fine La mia teoria Lo sapete Qua la io non me ne frega niente Del bull market Bel market Io voglio sfruttare i movimenti Del mercato Per fare soldi Quindi pump I dump Le zone di pack Sono un modo di sfruttare I movimenti del mercato Anche E quindi Non rimango solido Sulla posizione No Quando arrivo a 10.000 Comincio a comprare Ci vediamo l'anno prossimo Come vedo molti che Hanno fatto Sì io Quando arrivo a 10.000 Ovviamente lì ti perdi Molto del gioco Ok Quindi Andiamo a vedere Più che altro La zona Perché intanto Ho usato Questi strumenti Allora io c'ho degli strumenti Alcuni sono a pagamento Alcuni sono gratuiti Quindi dipende molto da voi Ci vogliono un po' di ricerca Però potete capirle anche voi Ci sono alcune cose Che io ho deciso Quando siamo arrivati qua Uno è il Fear and Greeding Index Questo lo C'è nel mio C'è nelle lezioni Di trading investimenti Nel corso Che invito Chiunque vuole A fare il corso C'è sempre lo sconto Per chi è dentro La community Non mi ricordo 15-20% Quindi se siete dentro La community Avete comunque lo sconto Per il Per il Diciamo Il corso Non riesco a parlare oggi Comunque Quindi se siete a zero Il mio consiglio È sempre fare un corso Anche se non è il mio Andate a fare un altro corso Se pensate che un altro corso Sia meglio Però fate un corso Fate un corso Anche elementare Fate un corso Qualunque corso Basta che ne fate uno Almeno le basi Dovete cominciare Dalle basi Avere Un corso Che vi porta Dalle basi A essere più aware Del mercato Nessun corso Vi porterà a essere Trader professionisti Perché questo dipende Dall'esperienza Io penso che La community È come un bootcamp Quindi vi dà L'esperienza Perché chi è qua Da un anno Ha visto con i suoi occhi Tutti i movimenti Che abbiamo fatto I trade Le sconfitte Le vittorie Le zone in cui siamo investiti Come abbiamo usato Le notizie Come abbiamo usato L'onchain Quindi Chi è qua da un anno O più Che può testimoniare Ha visto in realtà Anche con i suoi occhi La verità del mercato Ha visto quanto è difficile Quanto è facile Come leggere le notizie economiche Come leggere quello che dice Powell Le politiche monetarie Come influiscono Le correlazioni E sa che c'è tantissimo da sapere Quindi devi essere sempre In un posto Dove ti può dare Un sacco di informazioni Ok Queste sono le cose Che potete fare voi Se siete capaci Fare macroeconomia Cose del genere Se no potete Come in questo caso C'è il servizio Che vi offre tutto questo Sono ore di ricerca Non è una cosa Che schiaccia un bottone La trovo pronta Sono ore e ore e ore Di ricerca Certe volte Quindi Una delle cose Che semplicemente Poi andrò a toccare Su alcune cose Che Il modo qui ho usato Era Il fear and greed index Questo nel corso Spiego come usare Questo Chart Ok Quindi questo chart Molto semplice da leggere C'è i colori Quando è 90 C'è verde C'è un extreme grid Quindi la gente è infomata Ok Lì devi avere paura Lì devi cominciare a pensare A una via di uscita Quando vedi Il panettiere sotto casa Che dice Eh sto pensando Di comprare bitcoin Bene Quello è il momento In cui devi dire Beh fa perfetto Io sto pensando Di uscire da bitcoin Ok Quindi funziona così Quando l'ultima persona Della catena alimentare Degli squali Che ci sono Comincia a pensare Di entrare sul mercato Tu Se sei stato abbastanza Sul mercato Devi cominciare a uscire Dal mercato Questa è una delle leggi Altra cosa Come vedete Il feeling index Quando è al minimo C'è a 10 Il colore è molto più rosso Che è rosso sangue Come diceva Warren Buffett Quando c'è sangue Sulle strade Entra e compra Ok Quindi come la settimana scorsa Due settimane fa Quando c'è stato Sangue sulle strade Le lol coin Io ho fatto un video E vi ho detto State calmi Comprate Il piano era Comprare dove ci sono I punti di supporto Non dovate fare altro Era già tutto disegnato C'erano già le rigne C'erano già tre Punti di supporto Dove mediare l'entrata Non dovete fare altro Dovete smetterla Di guardare il chart Che scende E prendere in mano Un attimo di logica Di ok Schiaccio e compro Questo Compro quello Aggiusto la mia posizione Come abbiamo sempre parlato Ok Non succede tutti i giorni E allora quando arriva il momento È lì che ci vuole Ok Questo è il momento Tre mesi Che aspetto Che arriva al sangue Sulle strade Devo entrare Schiacciare E usare Quello che ho imparato Quindi quello che ho imparato Ho imparato nel corso Negli anni qui Devo veramente In questo caso Usarlo Non tutti i giorni Apri il chart E pensi di far No ma quel momento Che non arriva sempre Arriva in quel momento Dovevi Smettere di guardare in giro Il FOMO E i video Che dicevano E dire ok Io ho studiato Mi sono preparato Per 6-7 mesi Sono stato qui Ho preso Adesso è il momento Che io uso queste conoscenze Non quando Va Fa 2% 3% No quando vedi Dei veri e propri schiaffi Sul mercato Ok Quindi tanta paura Questo è quello Che noi vogliamo vedere Quindi Quando Bitcoin era in questa zona Ok C'era paura Ok E quando era in questa zona C'era ancora più paura Come vedete Sono zone rosse Quindi queste solitamente Sono le zone Dove bisogna accumulare Io ho usato La stessa strategia Durante il bull market In questa zona La stessa identica strategia Ho visto notizie negative Uno dopo l'altro Bah 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 Bitcoin è finito Bitcoin è uno scam Tesla aveva rimosso Bitcoin Che poteva comprare Bitcoin Con Tesla E ho detto no Perché non è buona Per l'ambiente C'era odio ovunque Casino Rumori E a me non mi interessava Io guardavo solo una cosa Il chart E quello che succedeva Nell'economia Non c'erano politiche monetarie Particolari Quindi a me mi interessava Solo il chart In quel momento Ok Quindi Fatto la mia analisi Senza problemi C'era un channel C'era un channel discendente Che sapete che per me Sono bullish I channel discendenti Non i channel ascendenti Ciò che le vanno L'altro alto Fatto il mio accumulo L'ho comprato Dove la gente Ha cominciato a aver paura E vendeva i retailer E poi mi sono cavalcato Tutta la zona qui Quando è diventato rosso Verde È stato il periodo In cui abbiamo aperto il channel E ho aperto il channel Di Keto Jam Sfortunatamente Proprio in questa zona In cui parlavo un po' Di take profit Però sapevo La mentalità dei retailer Quindi la gente Era molto attaccata A Shiba A Dodge E se osavi dire qualcosa Per gli devi solo insulti Quindi Facevo Fatica a certe volte Anche esprimermi Poi ho imparato Che non me ne deve fregare niente Di quello che dice la gente Però Molta gente ha odiato All'inizio il canale Ma cosa dice Bitcoin non si vende mai Bitcoin è solo da holdare Però Come vedete Poi è finita così Finita così Quindi devi combinare Questo chart Non soltanto Sto chart Perché come vedi Anche qua era rosso Vuol dire che devi comprare Qui assolutamente no Però Devi combinarlo Con il resto Delle cose che fai Quindi analisi tecnica E altre cose Quindi Questo è solo un esempio Quindi vedete La zona di extreme fear È la zona in cui devi avere paura Extreme grid Questa non è extreme grid Questo è ok È un 60-70 Quindi da qui ancora Può spingere Possono creare ancora più grid Sul mercato Perché le istituzioni Tendono a creare grid Ok Quindi come vedi Le istituzioni Tengono a portare La gente più avida possibile Ok Guardate qui Questo è un perfetto esempio Di scalata al grid Guardate qui C'è sulla punta Cioè l'ultima candela Aveva 95% di grid Cioè era qui Ok Quindi Loro tendono a fare così Perché loro hanno bisogno Della cosiddetta exit liquidity Quindi hanno bisogno Di uscire dal mercato Con i loro miliardi Che hanno fatto i milioni Quindi hanno bisogno Che i retailer cominciano a comprare Il mercato È che vai e vendi a chiunque Devi vendere a qualcuno Quindi se c'hai miliardi Vuoi vendere miliardi Devi trovare qualcuno Con i miliardi che entrano Quindi Devi creare liquidità FOMO Devi creare No Quindi questo è il solito Pump and dump Come vedete Qui extreme fear Dove avevo consigliato Comunque analisi tecniche Abbiamo usato tanti strumenti Per dire questo è buono In questo momento Come vediamo bitcoin È in un upper channel Ok Quindi andiamo a prendere il channel Andiamo a disegnare i miei channel Io lavoro molto con i channel Mi trovo bene da anni Li ho sempre usati E penso che ci lavorerò sempre Allora Questo è il channel di bitcoin All'un momento Ok È un upper channel Io solitamente non mi piacciono I channel Questi quali Upper channel Quindi non tendo A prenderli troppo Come bullish Ok Tendo a usare di più I down channel Ok Quindi Questo comunque Il chart settimanale Quindi Questo per farvi capire Quindi come vedete qui Può sicuramente Questo a lungo termine È molto bullish Per bitcoin Questo channel Come vedete L'abbiamo visto anche nei precedenti Bear market L'ha fatto Ha fatto il channel Sceso giù Channel discendente Tende a rompere verso l'alto Ok Poi In questo caso Come vedete Questo è un pericolo Questo è un channel Ascendente Quindi un upper channel Quindi Sembra che stia riprendendo E potrebbe rompere Verso il basso Ok Quindi Il pericolo di questo channel È la rottura verso il basso Ok Non è altro che quello È il pericolo di questo channel Ok Quindi se noi andiamo a vedere Quali sono i punti migliori Per comprare bitcoin Sicuramente bitcoin Se dovesse rompere qua Per esempio Diventare bullish Quintentrion Un bull market Quindi metto l'ipotesi Di un bull market Dove poter comprare Ok Sicuramente Prima o poi Farà dei pull back Farà una struttura Quindi sicuramente Non è che va su così E poi va su E va su Per questo è quello Che la gente pensa Che poi perde il treno In realtà non funziona così Vedete Anche se dovesse rompere qui E magari arrivare anche 40 Con il 5.000 Ci saranno dei momenti Violenti di pull back Come questo per esempio Ok Ci saranno dei momenti così Molto violenti Ci saranno sempre Ok Niente va su dritto La gente prende profitto I grandi investitori Prendono profitto Ok Quindi tendono a prendere profitto Quando vanno su Quindi come vediamo Se dovesse anche rompere Questa zona E poi qua per esempio C'è una C'è una head and shoulder Che si può anche dire Che questa è una head and shoulder Ok Quindi bisogna Tridare Trade what you see Not what you think Ok Quindi se pensi che va giù Va bene Però se vedi qualcosa di bullish Devi Deve mettere Quindi come vedete Questo per esempio Possiamo misurare Una specie di rottura Come vedete Ci porta nella zona Dei 49.50 Che un numero tondo E ok Potrebbe essere Comunque Se dovesse causare Se dovesse causare Questa cosa Molto probabilmente Avremo Un altro tipo Di channel Quindi avremo Qualcosa Che ci formerà Quello che penso io È un possibile Pullback Ok Possibile pullback Ovviamente io lo Tradeerei Una rottura da qua Con conferma Da tradeare Ci avreste Il segnale Sicuramente Poi in parte Siamo rimasti in hoddle Dalla zona dei 16 Non abbiamo scaricato tutto Mi sa che Un 15-20% Rimasto in hoddle Quindi se dovesse rompere qui Molto probabilmente Al pullback Quindi alla nuova struttura Avremo una nuova struttura Avremo un nuovo channel Avremo una guida Non sarà una cosa casuale Il mercato ci darà Una nuova guida Da seguire Molto probabilmente Prenderemo i pullback Da una zona Ok Molto probabile Andrà a ritestare 30.000 Da qualche parte Quindi potrebbe anche Arrivare a 50.000 Ma molto probabilmente Ritesterai 30.000 Ok Da qualche parte Questa è l'ipotesi bullish Ok 30-35 35.000 Andrà a ritestare E poi tornare su Questa è l'ipotesi Più bullish Che possiamo In questo momento Guardare In cui uno potrebbe Iniziare ad accumulare Quindi magari Tradare la salita Ok Anche con uno spot E poi tradare In questo momento Siamo comunque Appoggiati sulle altcoin Quindi in verità Se il bitcoin va su Così tanto Non farebbe altro Che darci più liquidità Per le altcoin Quindi In modo probabilmente Performiamo bene lo stesso Quindi Se siete qua da un po' Non doveste avere Paura di un pump Di bitcoin Per perdere il treno Perché siete già A bordo del treno In qualche modo Ok Quindi Non doveste avere paura Anzi Se dovesse avvenire Un bull market Io ne sono più che felice Ok La versione La versione Bearish Invece Che è quella Che mi preoccupa Di più Anche per una questione Di macroeconomia Quindi sapete Che io Non giudico Soltanto Il prezzo Perché Price is a distraction Ricordate La frase Che c'è sempre La frase Di Crypto Jam È Il prezzo È una distrazione Ok Quindi 30.000 35.000 40.000 Sono numeri Vogliono dire Relativamente poco In un certo contesto Quindi Potrebbe arrivare 34.000 35.000 Assolutamente La liquidità Come volete chiamarla Si sta riducendo Questo è lo scopo Delle Delle banche centrali In giro per il mondo Australia Canada Europa Stati Uniti Contrarre la liquidità Sul mercato Per controllare L'inflazione Perché ovviamente Come ha detto Powell Una Un problema Per esempio Sull'inflazione È 10.000 volte Peggio Di una Di una crisi economica Quindi La crisi economica Noi possiamo gestirla Perché basta Stampare più soldi Sai Stimulo economia Ma non possiamo gestire Un'inflazione Che va fuori controllo Quindi come è successo In Zimbabwe O in altri paesi Una volta che esce fuori Dalla bottiglietta O dal Dal coso Una volta che È uscito fuori dalla lampada Il genio Non lo puoi più rimettere dentro Perché questa è una frase Che ha usato anche una volta Jerome Powell Per farvi capire Quanto è pericoloso Un'inflazione Quindi in questo momento Sta contraendo E ovviamente Bitcoin Essendo un asset finanziario Ok Tende a seguire Il money supply Sul mercato Quindi tende a seguire I soldi Ok Perché ci vogliono soldi Per far crescere Gli asset Ok Qualunque sia il loro valore Anche l'oro Che è sempre stato Una Un asset Contro l'inflazione Quello che vuole Anche lui Durante La contrazione La contrazione del mercato A livello di money supply Tende a contrarre Col mercato Quindi Niente sfugge Alla morsa Della crisi Niente Nessun asset Tutti gli asset Hanno bisogno di soldi Per salire Ok Quindi Uno degli strumenti Che potete usare Ovviamente Adesso vi faccio vedere È quello del Vediamo se riesco a metterlo Sul chart Ok Allora Vediamo se riesco a metterlo qua sul chart Wallcl Poi vi dico cos'è Allora New price scale E wallcl Vediamo se Poi Adesso un attimo Dovrebbe essere Se non sbaglio Vediamo un attimo Vediamo un attimo Qual era il nome Questi nomi Nomi così lunghi Allora un attimo Un po' di pazienza Che non l'ho messo prima Sul Sul chart Allora Un'altra cosa Che noi possiamo vedere Ok Misurare quel prezzo Di bitcoin Ovviamente anche Questa è Sono il balance sheet Della Della federal reserve Il tg supply Quindi un po' Rappresenta Tutta il supply Che c'è a livello Di liquidità Sul mercato Come vedete Abbiamo una contrazione Adesso questo è stato Ovviamente i movimenti Che hanno portato Il bull market Quindi se riesco a piazzarli Quindi se riesco a piazzarli Una sopra l'altra In maniera più intelligente Vediamo se riesco A farvi vedere Un attimo Poi magari faccio un video Un po' più approfondito Su questi strumenti Però Per il momento Voglio semplificare la cosa Da tutti Allora Vediamo se riusciamo A farli accavallare Uno sopra l'altro In maniera più decente No non riusciamo Allora Come vedete Questo è Questi sono Quindi per farla breve Questi sono i soldi Sul mercato Che vengono iniettati Ok Quindi per Per fare strade Per investire Per investimenti Prestiti Loan Tutto quello che circola A livello di denaro Il balance sheet Della fed Queste cose qui Quindi vedete che Quando c'è stato il covid Ok Abbiamo avuto Un pump Ok Se vogliamo chiamarlo Pump Però abbiamo avuto Un'iniezione Di liquidità Nell'economia Come vedete qui Ok E poi ovviamente Questo è il balance Della fed Questo comprende un po' tutto Ok Quindi questo comprende un po' tutto Questo blu Forse è un po' più ampio Di questo E come vedete Appena ha cominciato A contrarre Ok C'è stato Quello che è il doppio top Senza volumi Infatti questo è stato un double top E poi ha contratto Questo lo potete anche fare Sul chart Dell'SPX Praticamente uguale A quello di bitcoin In questo caso Riflette molto Quello che succede Però lo facciamo su bitcoin Perché stiamo parlando di bitcoin In questo momento Quindi vedete In questo momento I soldi escono dal mercato Quindi stanno contraendo Come vedete Ok Abbiamo un piccolo pump In questa zona Dove ovviamente Abbiamo avuto anche Infatti se vedete qui Per esempio Qua dove abbiamo avuto Il pump Di bitcoin E dei mercati Vede qua c'è stato uno slancio Poi c'è stato un ribasso E leggermente Anche perché hanno provato Il tetto Hanno provato il tetto Dell'incremento Del tetto Del debito pubblico americano Quindi c'è un po' Di iniezione Però vedete Il balance Che della Fed Continua a scendere In questo caso E quindi c'è una contrazione Questo deve scendere Molto di più Questo è l'obiettivo Della Fed Che c'è sul mercato Ok Questo è la semplice Quindi nel caso Bearish Quindi vi spiego Perché sono bearish Anche Non semplicemente così Quindi C'è una crisi Siamo bearish Asset rischiosi E poi categoria Asset rischiosi Non sono asset Scam Perché poi La gente si confonde Fra asset rischiosi Del tipo Quella compagnia Uno scam È un asset rischioso Che c'è un high beta Ok High beta Vuol dire che c'è Un'alta volatilità Sul mercato Ok Gli investitori Anche istituzionali Loro hanno delle classifiche Per gli investimenti Perché non puoi Semplicemente seguire il cuore Come facciamo noi Certe volte Loro dicono Ok Questo è un asset rischioso A un beta tot Io devo tenere il mio portfolio A un beta bilanciato Quindi non posso Prendere A mettere troppi bitcoin Sul mio balance sheet E non posso Mettere troppi tesla O troppi cose Devo avere per esempio Apple Microsoft Che sono più stabili Hanno un beta più basso Per esempio È avere meno asset rischiosi Quindi Il problema è di bitcoin Che c'è una high beta Quindi Ovviamente investirci In una crisi economica Quindi quando c'è Una contrazione del mercato Oltre a quello Ci sono dei dati Che fanno vedere Che il mercato delle case È al suo top Quindi da qui Deve scendere Ok E le banche sono molto esposte Al mercato delle case Quindi In caso di Così che sto dicendo Sì In caso comunque C'è una contrazione Del mercato Quindi il mercato scende Ok Le istituzioni tendono A scaricare Gli asset più rischiosi E andare negli asset Con basso beta Quindi più safe Più No Perché non vogliono Prendere ovviamente Il dump Ok Questo anche I retailer Tantissimi lo fanno Quindi È il pericolo Di un downtrend Ok Da qui Come vedete In questo caso È il fatto Che possa arrivare qui Ok Potrebbe anche salire Un po' più in su Tipo questa zona Però vedete Che qua Fallito un ritest Ok Perché qua Avrebbe dovuto Fare un ritest E continuare Quindi Il problema È che O in questa zona Verso i 33 32 mila Che abbiamo visto Anche a livello Di Fibonacci È un livello strategico O leggermente E più in su Potrebbe arrivare Fare un fake out Ritornare qua dentro E poi scendere Verso La parte più bassa Ok Questa è la zona Dove io Se dovesse scendere Sarei più aggressivo Su bitcoin Come lo sono stato In questa zona Ok Ovviamente userò Anche altri strumenti Non soltanto La base di questo Però Per dire Questo è uno dei punti Dove se dovesse Scendere Sarei un po' più aggressivo Dove Ovviamente Tutti parlano Dei 10 11 12 mila 9 mila Ok Quindi vedete qui Ok Potrebbe arrivare anche Fino a settembre Ottobre Che sono i mesi A livello ciclico Più bearish Ok La seconda parte Dell'anno Seconda parte Dell'anno È sempre più bearish Della prima parte Dell'anno Ok A livello storico Quindi Questa è la parte Più rischiosa Dove ovviamente Se siete investitori Intelligenti Avete la pazienza Di osservare Lasciare che la cosa giochi E puoi entrare Nel momento giusto Ok Usando anche i dati Che abbiamo a disposizione Ogni giorno Ok Che noi condividiamo Quindi In caso Bullish Che sia un nuovo bull market Tutto quello che volete Cosa che ho detto Più volte Faccio fatica a chiedere Sul fatto che Samuel chiede A questa domanda Un po' strana Ci sarà ancora La Jam Community Lì Spero vivamente Allora La Community Ragazzi Come sapete È una cosa Che io ho creato Non solo Non per me Ma anche per voi Perché Quando Ovviamente ho detto Serve espandere i servizi Serve un servizio Completo in Italia Cosa che non ho visto Poi se ce ne sono Bene Io non ho mai visto Servizi così completi Ma non è anche negli Stati Uniti Io Seguo tanti servizi Non ho mai trovato Una cosa che Accumuna tutta la visione Continua E io c'ho tante cose Che voglio apportare Che Ci sto lavorando Anche con Matteo Giuseppe E altre persone Che quando Il sito sarà pronto Sarà una cosa Molto più facile Anche per voi Secondo me Da seguire Ci sarà anche Una specie di pafa A livello Educativo E a livello Di comprensione Del mercato Quindi La GEM Community Da qui Può solo Espandersi Ok Quindi grazie anche A chi è qua Da un anno Ok Ovviamente Grazie ai fondi Tutte le cose Che avete Prevudute Che avete dato Questo mi ha aiutato A me A far crescere Il servizio Piano piano No Quindi a prendere Sempre più gente A costruire le cose Ad espandere i servizi Quindi sicuramente Ci sarà la GEM Community Ok In qualche forma Ci sarà sempre Ok Io in futuro Sarà molto più automatizzata Dal punto di vista Di tantissime cose Sarà molto più chiara E comunque La domanda Sì Ci sarà Cioè Se voi vedeste I servizi Che io voglio portare Sono tanti Però non voglio Overload Oppure Riempire i canali Di informazioni Quindi è per quello Che serve il sito Un posto un po' più pulito Un po' più Facile Dove navigare E poi ovviamente La GEM Community Ci sarà sempre Quella non morirà mai Quella sarà le fondamenta Questa è la base Della GEM Community Quindi assolutamente Ci sarà Diventerà solo migliore Ok Dal mio punto di vista Migliorerà e basta Ma ci sarà sicuramente Quindi l'obiettivo È che esista sempre Ok Quindi assolutamente Sì ci sarà La GEM Community Assolutamente Quindi Per tornare Questo è il caso Berish Il caso Bullish È un ritesta Di 30.000 30-35.000 Vedere come regisce Il prezzo Se tiene Perché non voglio Che arrivi e crolli Perché questi sono giochetti Che ho già visto E poter accumulare Allora Dici ok Ho accumulato 16 C'è una parte Aspetto di vedere Come gioca Zona molto chiave Questa E poi decido Perché Se come dice la gente Bitcoin è un nuovo bull market Quindi se noi siamo In un nuovo bull market Arriverà Sentito cifre Fra il mezzo milione Il milione In dieci anni Due milioni Tre milioni Quindi Prendiamo queste Forecast Come Come regola A voi Vi cambia E comprare 30-35 O 37 Non cambia nessuno Ovviamente Però ovviamente Cambia A me Comprare 30 E comprare 10-9 A me mi cambia Tantissimo Tantissimo Cambio Perché Il fatto è questo Che se dovessi Comprare Adesso Ok E va su Anche E ritorna All time high Solo un 122% Ok Trovare qualunque Shipcoin Per fare Stessi numeri Però per esempio Se torna Il 9-8 Che non è Una cosa remota Solo tornare All time high Sei già un 600% Quindi Aspettare una Conferma Qui può essere La differenza Fra fare 600-700% E fare Un 100% Per farvi Capire Ok Quindi fare un 6x E fare un x Aspettare Un 10% Di conferma Non è niente Però aspetti Una conferma E lì la differenza Fra fare Un x E fare 6x Ok Quindi Guardare la figura Più grande Non guardare La candelina Che da 30 Va 31 E pensi Di aver peso Il treno Questo non è Is a no sense Ok Quindi Questo è a livello Di investimenti Se siete trader Diverso I trader Volevano Prendere qualunque Movimento Però se siete investitori A voi vi interessa Poco Aspettare una conferma Di un 5-10% Entrare Invece di Prendere un dump Per esempio Del 66% In caso succedesse Ok Quindi C'è una grande differenza In questo ambito Cioè in questa figura Di cui stiamo parlando C'è una grandissima differenza Ok Quindi Verranno usati Altri strumenti Ovviamente Come vedete qua C'è alcune C'è alcune cose Che uso Che ovviamente Sono tutti i tools Questi sono a pagamenti Però ovviamente Io li uso Per poi darvi L'analisi finale mia Come per esempio Abbiamo I Fibonacci Come vedete Questi qua Ok Questo è il logaritmic curve Di bitcoin Che è ai minimi Quindi storicamente Come vedete Quando è arrivato qua sotto i 16 Qua dove Ho invitato la gente A comprare Perché eravamo al di sotto Della curva Ok Ovviamente Tutti questi studi Il problema È dei modelli Che hanno fatto Per esempio Anche questo modello Ok Il SF2 model Questo è il modello Dove abbiamo un min Ok Poi abbiamo per esempio Adesso bitcoin Secondo questo modello È oversold Quindi in qualunque di questi punti Bitcoin è da comprare Infatti quando va su Agli estremi da vendere Quando va giù Qual è il problema Che io ho Con questi modelli Che non tengono in considerazione Un bar market Tengono in considerazione Soltanto bitcoin Che ha vissuto In un bull market Dall'inizio Quindi bitcoin Dal 2010 Da quando esista È esistito solo In un bull market Ok Quindi abbiamo visto Bitcoin esistere In un continuo bull market Perché Perché ovviamente Qua La fed Non ha mai fatto Politiche monetarie Troppo restrittive Ok Dal 2010 Ad oggi Quindi Uno dei problemi Che io ho Con questi modelli È il fatto Che non tengono In considerazione Un ciclo Di bear market Vero Ok Tengono in considerazione Un ciclo di bull market Ok È come se tu facessi La migliore ipotesi Basandoti Sulle migliori ipotesi Di sempre Quindi La mia ipotesi migliore È basata Sulle migliori ipotesi Ma non è mai basata Su una brutta ipotesi Ok Se avessimo per esempio Avuto un chart Di Un bear market Vero A livello economico Parlo di a livello economico Un bear market Allora Sarebbe diverso Il modello Secondo me Però Essendo che Non abbiamo mai avuto Un modello Una storia Di bitcoin Poi ovviamente I cicli bitcoin Sono stati Abbiamo avuto 3-4 cicli In generale In questo caso Molto evidenti Non si basano Su bear market A livello globale Né crisi globali Né cose del genere Ok Quindi Sicuramente per me È una curvatura rialzo Quanto può scendere Non lo so Però essendo che Io non sono Michael Saylor Che compra solo i pump E non gli interessa Che tanto sono soldi Degli investitori Della sua compagnia Ma io ho i miei soldi Personali A me mi interessa Fare 10x E non fare 3x Ok A me mi cambia tanto Ok Quindi Questo è il motivo Per cui cerco di prendere I punti migliori Perché Sul mio piccolo portfolio Perché comunque Noi in confronto I grandi squali Siamo tutti piccoli Tutti piccoli pesci Che c'è anche Un milione O due A noi cambia Avere Un 6x Che è un 1x Ok Quindi A noi cambia tanto Quindi noi vogliamo Prendere il prezzo migliore Ok Quindi questo è Per quanto riguarda Bitcoin Ok Quindi ci sono Stuntissimi strumenti Che possiamo usare Per vedere se Bitcoin è over value Under value Tutte le cose che volete Però dobbiamo anche Tenere conto Che siamo in una situazione Abbastanza Abbastanza Unica Per Bitcoin Ok Anche lui è in una situazione Abbastanza unica Quindi questo Per quanto riguarda Bitcoin Vediamo un attimo Che c'è qualcuno Scritto da qualche parte Dodge Ok Quindi Questo per quanto riguarda La parte di su Bitcoin Poi magari approfondiremo Sicuramente Nei prossimi settimane Adesso sapete che La prossima settimana Ve l'ho già detto Sarò Sarò impegnato Per l'università Quindi ci sarà Matteo Più che altro Io sarò molto Molto impegnato Perché ho gli ultimi esami E devo concentrarmi Comunque Questa è la situazione Di Bitcoin Così avete un'immagine Più grande della situazione Non semplicemente La gente che diceva 100k O chi diceva 2k Avete un'immagine Molto più Molto più pulita Senza troppi Chart Senza troppe cose Messo sul settimanale Abbiamo fatto un'analisi Molto logica Di quello che può succedere Sul mercato E ovviamente Di come poter reagire In caso succedesse Ovviamente c'è la community Quindi in caso Arrivi quel giorno Del mega dump O del mega pump Sapremo come muoverci Ok Quindi decideremo insieme Alla fine comunque Poi Volevo riprendere in mano Una cosa vecchia Che avevamo fatto Che però penso che Farla adesso Dopo quello che abbiamo visto Succedere Nel tempo Quindi L'abbiamo fatta quasi Un annetto fa Mi sa Quindi farla ora Dopo un anno Di pump In dump In dump In slump Ok Penso che possiamo Ritrovarci molto Su alcune cose Per un'altra Un po' di te Intanto se avete Le domande Fatele pure Quindi Dalla parte psicologica Questo secondo me Dove tanti vengono fregate Ok Poi qua cambia molto Se siete investitori O trader Perché comunque Cioè non cambia moltissimo Nel senso Cambia il vostro time frame Però A livello di Secondo me Di mentalità Siete tutti un po' più trader Che investitori Secondo me Perché guardate molto I piccoli time frame Però Il mio invito È essere un po' più investitori Nel tempo Soprattutto se avete Poco tempo Nella vita Ok Se nella vita siete Poco tempo Potete diventare trader Se volete farlo Come lavoro full time Però se volete Sfruttare la parte Adesso del bear market Il bear market Non si sfrutta Facendo trade Secondo me Il bull market E i mercati Trending Sono quelli buoni Per tradare Ma visto che avete Un'occasione unica Nella vita Che non succede Va da anni Cioè quella di Beccare un bear market Globale Ok La mia La mia Il mio consiglio È quello Di concentrarvi Sugli investimenti Perché voi Riuscite a piazzarvi In maniera Che Le prossime Dieci generazioni Secondo me Vi invidieranno Per come vi siete Piazzati In questi anni Sul mercato Ok Perché non rivedranno Molti prezzi Di nuovo Quindi Questo è quello che dico Concentratevi di più Sugli investimenti Adesso Perché non tutti i giorni Succede un bear market Ok Che concentrarvi Sui trading Trading Comunque fatelo a parte Comunque c'è un 5% 10% Di allocazione Che uso per i trading E swing trade Per creare Piccola liquidità Ma La maggior parte Dei miei movimenti Sono spostare Stold in spot Prendere per esempio Cose Che pampano Che stanno per pampare Allocare bitcoin In punti giusti E così via Gemma Il target della mega Bull flag Che target dà Bah Al momento Non so se possiamo Dargli veramente Un target Perché comunque È un channel Più che una flag Direi Però possiamo misurare L'ampiezza del channel In questo caso E provare a vedere Dipende anche Da quanto in basso va Perché comunque Sapete che la rottura Dipende molto Dalla Come si dice Il target dipende Dalla rottura Dove rompe Dove rompe Se rompesse qua Per esempio Come vedi In questa zona Avremo un target Circa di 88.000 Se rompe più basso Per esempio In questa zona Avrebbe un target Di 63.000 Dipende dove rompe Dipende dalla rottura Devi misurare la rottura Ok Bisogna misurare la rottura Alcuni usano anche L'asta della bandiera Per esempio Però io preferisco Mantenermi più Conservativo Diciamo A livello di Di cose Quindi alcuni usano L'asta della bandiera Quindi questa qui Diciamo questa Per misurare Una possibile rottura Però ovviamente Questa ti dà sempre Target Veramente alti Quindi se dovesse rompere Qua parliamo di Un 200 200 250.000 Comunque sopra I 200.000 Diciamo Che potrebbe essere Però Intendo non usare Troppo Questa tecnica Dell'asta Perché A parte che è difficile Poi misurare Però ovviamente Non è mai così Cioè scopri sempre Che rimanere Conservativi È la cosa migliore Poi una volta Che raggiunge Questo target Puoi fare un'altra Analisi Vedere un altro Target Magari ti dà Una head and shoulder Ti dà qualcosa Double bottom Comunque qualcosa Il chart Ti dà sempre Se tu guardi il chart Ti dice sempre qualcosa L'importante Che hai pazienza Di aspettare Ok Potrebbe essere Di trovarsi Il posto giusto Nel momento giusto Assolutamente Secondo me Questo Come vi ho detto Vi sto facendo vedere Un'analisi settimanale Quindi in verità Stiamo parlando Di possibili mesi Movimenti di mesi Quindi non è che una cosa Che succederà domani mattina Succederà nei prossimi mesi Quindi abbiamo tutto il tempo Di trovarci nel posto giusto Al momento giusto Per l'investimento a lungo termine Enzo chiede Sulle crypto Consiglio di comprare In spot E spostare sul wallet Sì Visto la situazione Che c'è adesso Sul Sugli exchange Io consiglio sempre Il wallet Ragazzi E consiglio però Di gestire bene Il wallet Quindi non lasciare La frase in giro Non salvarla Su nessun cosa digitale O qualcosa Collegato alla rete Comunque qualcosa Di digitale Quindi stare sempre Attenti alla frase Segreta Questa è una cosa Molto 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 importante Ragazzi Perché Non volete ritrovarsi Come quelli che hanno 300 milioni di bitcoin Chiusi E non possono accedere Dopo anni Quindi magari Non so Vi comprate Shiba 1000 dollari E poi Shiba Diventa 100k Fra 10 anni E voi siete lì Col coso Ah non riesco Ad accedere È un modo di dire Però Per farvi capire Che non volete ritrovarsi In questa situazione Spiacevole Io mi ricordo Che quando avevo Il wallet Di ADA E c'era E c'era sopra 1000 ADA Poi un giorno Mi sveglio E vedo 10.000 euro ADA valeva 10.000 euro Perché era arrivato Un dollaro E mi ricordo Che avevo la frase Salvata In maniera molto Pulita Da qualche parte Ho acceso Avevo paura Mentre cercavo Di accedere Vi dico la verità Avevo molta paura Perché era tipo Due anni Che non Non toccavo Quel wallet E non Comunque non ero Molto preso Con le crypto A quei tempi Quindi in verità L'avevo comprato Un po' così Per Per un mio amico Che mi aveva detto Avevo un po' paura Che non funzionasse Poi quando ho funzionato Ho detto Uh Vedi Adesso c'ho 10.000 euro Così Sono riuscito Ad accederci Samu chiede Ma c'è ancora Il rischio Di tenere USDT Nel wallet Per via del Depeg Penso di sì Comunque Le stablecoin Sono sempre Un rischio Purtroppo Purtroppo Questo non so Se c'è una soluzione Una soluzione Valida Per questa cosa Al momento L'unica cosa Stare con gli occhi aperti E E le orecchie aperte Anche E ovviamente La comunità Aiuta molto In questo Perché anch'io Era un palestra Il giorno Che mi hanno detto Del Depeg Mollato tutto Sono tornato a casa E ho convertito Quindi Essere già In una comunità Come questa È buono Perché comunque Vedete i messaggi Arrivano C'è sempre qualcuno Sugli alert Che guarda Che sa Quindi è ottimo Quindi c'è sempre Il pericolo Purtroppo Non posso decidere Per voi A dirvi No sicuro USDT è sicuro Perché non è vero Sappiamo che Se la SEC Fa qualcosa Ci va a caccia Dall'USDT O qualunque cosa Potrebbe trovarsi In pericolo Quindi l'unica cosa Che posso dire È stare attenti Cercare di usare solo Mettere i soldi Che vi servono Quindi Se avete per esempio 10.000 euro In banca Volete investire 1.000 euro E sapete già Che volete investire 1.000 euro Magari tenete 1.000 euro In USDT Investiteli Poi mettete In coin però Sul hard wallet E non mettete Tutti i soldi Che avete in banca Che volete investire Per esempio Se avete 10.000 euro Che volete investire in crypto Teneteli Nella banca Per adesso Finché non decidete Di metterli in crypto Questo è un È un mio consiglio Poi Quindi Questo per quanto riguarda Allora Per quanto riguarda La parte psicologica La parte psicologica Volevo ripassarla Un attimo Con voi Velocemente Riprendere alcune cose Alcuni tipi Di investitori Molti di voi Alcuni di voi L'avranno già vista Sta parte Altri magari no Però Rivediamo insieme Vediamo se vi riconoscete In uno di questi Magari ditemi Questo sono io O questo sono io E poi vediamo Di analizzare anche A Cosa porta la gente A pensare Anche così Certe volte Parlarne in maniera Aperta Davanti a tutti È la cosa migliore Cioè Proprio Ammettere i nostri Errori Nel trading E negli investimenti Ci porta a riflettere Perché molte volte Nel nostro cervello Diciamo Siamo delle teste Di rapa Però Non lo diciamo Peratamente Non lo ammettiamo Veramente Quindi rimane Sempre un po' Una specie di Accusa Che però Non usiamo A nostro favore Non riusciamo A ragionarci sopra Quindi cerchiamo Di ragionare sopra A queste cose Poi Molti di queste cose Le ho viste dentro la community Nell'ultimo anno Quindi Rispecchiano benissimo Alcune figure Allora Questo è un documento Che vi trovate comunque Nella parte Library Quindi se volete accederci Lo trovate Allora Vedete qui La parte psicologica Un trader È la parte più importante In questo caso Io dico trader Ma mi rivolgo Anche agli investitori Ciò che pensiamo Immaginiamo Le nostre convinzioni Sul mercato Alterano la nostra scelta Quindi La nostra scelta Alterata Che è da quello Che noi pensiamo Infatti la frase famosa Trade what you see Not what you think Perché in verità Poca gente Trade a quello che vede Molti tradono A quello che pensano Ok Questa è la verità Quindi Altra la nostra scelta Il modo Di agire Quando investiamo Entriamo in un trade Allora Abbiamo alcuni tipi Di investitori classici Questi li ho visti tutti Tutti li ho visti Ok Il cacciatore di gemme A bassa capitalizzazione Quindi quello che va Sulle macro Questo penso Siano molti di voi Senza offesa Però Molti di voi Li ho visti Che rientrano In questa categoria Il drogato di adrenalina Che vuole essere La prossima storia Di cripto milionario Durante la notte Hanno letto tutto Sui guadagni Delle criptovalute Che cambiano la vita Là fuori E sperano di trovare La prossima gemma 100 o 1000x Che risolverà Tutti i loro problemi Finanziari Queste persone Spesso si bruciano Soprattutto se stanno Buttando Ciacamente I loro sudati soldi In monete Che non hanno Che hanno Che non hanno precedenti Ok Quindi che non hanno Una history Ok Cercare il prossimo Bitcoin E o Ethereum Da scoprire Non è una buona strategia Tuttavia se questa persona Sta solo cercando Di cavalcare Il pump And dump Questo approccio Può essere Altamente redditizio Se fortunato E ovviamente Per cavalcare Il pump And dump Come sapete Nell'academy C'è il corso 100x Che parla Dell'approccio Ok Questa però È un'altra cosa Ok Non c'è niente di male Nel puntare Su alcune società Bassa capitalizzazione Questa è una cosa Che faccio anche io Spesso Che ti piacciono Ma non fare All in In questi investimenti Altamente speculativi Ok In questo caso Io ho visto Moltissima gente Che continuo ad andare A cercare Le small jam Ok Nel bear market Io ho già detto Avete buonissimi Avete dei bellissimi Progetti Che fanno bene Nel bull market Che sappiamo Che sono solidi Hanno delle basi Che sono dei prezzi Stracciati Perché andare a comprare Cose che non sappiamo Neanche cosa sono Solo perché pensiamo Che faranno meglio Ancora di quelli A un prezzo Ancora più stracciato E non investono mai Nelle cose Buone Come bitcoin Ethereum Continuano a cercare Queste gemme E alla fine Finiscono per bruciare Tutto il loro portfolio In questa maniera Ok E L'altro giorno Per esempio Mi ricordo Che stavamo Quando abbiamo preso Pepe Questa cosa Voglio che Ne parliamo più spesso Quando abbiamo comprato Pepe Che io Ho Ho pushato un sacco Su Pepe Se vi ricordate Ho fatto le storie Su Instagram Su Twitter Addirittura Su YouTube Mi sa che avevo fatto Un paio di video Su Telegram Qui sul Qui sul coso Ho fatto un sacco di video Ho detto Ragazzi Rischioso Ma questo ha grande potenziale Veramente Ok Perché io comunque Ho scritto il manuale So riconoscere Una cosa che potrebbe esplodere Ok Cioè ho un intuito Questa è un'intuizione Che mi viene dal fatto Che sono stato troppo Sul mercato Quindi è un difetto Cioè è una specie di Più che difetto È una Diciamo È un È una cosa che Ti viene stando troppo Sul mercato Cioè hai questa intuizione Diciamo Non è magia Ma vedrete che Se alcuni di voi Sono stati sul mercato Anni Dopo un po' Riescono a riconoscere Alcune cose Dicono Ok Questa Pampa Questa Dampa Ok Quindi è un'intuizione Ovviamente non funziona al 100% Deformazione professionale La chiamano Però funziona Ok Molte volte funziona Quindi Pepe Era molto evidente per me Che era una Una gemma E infatti ha fatto 1600 Ok Fino al 1600x E poi cosa è successo Quando il mercato Ha contratto Perché sapete che Le shitcoin Le memecoin Sono La La coda Del pump Quindi Il pump parte da bitcoin Va nelle whole coin E poi Finisce con le shitcoin E le memecoin Ok L'ho già spiegato Questa cosa Ok Quindi Le memecoin E le shitcoin Sono le ultime A ricevere il flusso Di denaro Prima del dump Quindi una volta Preso Pepe Abbiamo preso un altro Paio di cose Un paio di progetti Che hanno pampato Io non ho più parlato Di memecoin Shitcoin Perché poi È iniziato il dump Dei bitcoin È iniziato il dump Delle whole coin E lì ho capito Che i soldi Erano fuori usciti Dal mercato Ok Ho visto gente Che ha fatto Delle pazzie Ok Non faccio nomi Però c'è gente Che ha messo anche 15-20 mila euro Su un progetto Una shitcoin Ok E poi Non sono le vostre finanze Penso che 20 mila euro 15 mila euro Sono comunque Soldi Ho visto anche 30 mila euro Sono soldi per tutti Ok Non sono soldi Sbiccioli per chiunque Quindi Ho visto sta cosa Succedere poi In un momento sbagliato In cui non era il momento Delle shitcoin Delle memecoin Comunque E qua è dove Praticamente La gente casca In questa cosa Quindi rimane sempre Non so Sulla via Sulla retta via Poi succede una cosa Come Pepe Va fuori di testa Diceva Ah cazzo Se avessi investito 30 mila euro Avrei fatto un milione Ok Ma se avessi Se avessi Se lo dice ogni volta Non succede mai Ok Poi un'altra cosa Che dovete capire È che tutte quelle storie Di gente che è diventata Milionaria Molte sono fake Quindi vengono create Sul mercato Per farvi investire In quella coin Per esempio Ah quello ha messo 30 È diventato un milione Ok Quelle sono fake E molte volte A fronte di quelle persone Ce ne sono altre Migliaia Che hanno perso soldi Quindi la percentuale Di persone Che si sono trovate In quella occasione Hanno fatto i milioni È veramente bassa Dello 0,0001% Quindi voi cercate di battere Lo 0,0001% Che succede Ok Quindi Sapere quando arrivano I soldi in quei progetti Perché io non dico Di non investire In quei progetti Però Sapere quando arrivano I soldi in quei progetti Riuscire a identificare Le gemme Riuscire a fare Un buon money management Perché anche se Sapevo che pepe era buono Non ci ho messo Su tutti i miei soldi Perché non posso controllare Magari è uno scam Alla fine Magari il mio Il mio radar Da gemma Non ha funzionato Quella volta Quindi cosa faccio Mi rovino la vita No Ho semplicemente Fatto una locazione Che secondo me Era sufficiente Per guadagnarci tanto Ma non rischiare Ma rischiare poco Ok Quindi questo è Quindi attenzione Questo è il primo soggetto Il cacciatore di gemme Penso che molto voi Si riconoscono in questa cosa Oppure si riconoscevano In questa cosa Questo è Poi abbiamo il fomo Quindi Questa è la persona Si sente come se fosse In ritardo alla festa Questo penso che è Un sentimento di tutti Tutti i giorni Certe volte E si è eccessivamente Diseriosa di investire In tutto ciò che mostra Il potenziale di un pump Sfortunatamente Questo descrive Troppe persone nel settore Tra cui anche qui Un sacco di nuovi arrivati Arrivano E finiscono Per parteciparsi In token Che gli è stato detto Che andranno Sulla luna To the moon Molto presto E poi non lo fanno Ok In generale Saltare su qualsiasi progetto In cui hai una solida Comprensione E non hai una solita Comprensione È una cattiva idea Quindi come dico sempre Cercate di prendere Progetti che riuscite a capire Ok Non investite in cose Che non sapete La maggior parte Delle crypto È un manterraccio Che promettono Quindi Tutte le road map Buttate nel cesso Quello che è reale È che Molte di loro Non faranno mai Quello che dicono Quindi Molta gente Mi manda dei progetti Mi fa Guarda loro Hanno intenzione Di lavorare anche Con la NASA Ok Intenzione buona Ma non lo faranno mai Molto probabilmente Ok Arriveranno a breve Aspetta La maggior parte Delle crypto Valute Non manterrà Ciò che promettono E sebbene Molte arrivano Arrivano Il breve Un momento Di fama Ok Quindi molto breve Il momento Solitamente Presto torneranno Sulla terra Ok Dopo un breve Un momento Di fama Dove rimarranno Per gli anni a venire Quindi il pump And dump Questo per devi Questo al solito Pump and dump Il portfolio Del FOMO Quindi Questi ne ho visti Tanti di portfolio Così È solidamente Un mix Di alcune monete In cui hanno sentito Parlare nelle notizie Un mucchio di altri Progetti casuali Che hanno un marketing Molto migliore Rispetto alla tecnologia Quindi Una delle cose Per cui riesco a distinguere Un FOMO Questa è un'altra delle cose Comparato nel tempo E che voglio Ed è una cosa Che io vi dono È il fatto che Quando uno è troppo bravo Nel marketing Probabilmente il suo marketing È meglio della tecnologia Ok Quindi Mark infatti Nel libro Andradex Ok Che vi consiglio di leggere Se avete acquistato Se no Comunque Penso che abbia Un prezzo abbastanza accessibile Parla della parte marketing Quindi se parla Della parte marketing È perché Ci si aspetta Che questa gente Si focalizzi Poco sulla tecnologia È molto più sul marketing Ok Perché se il marketing È buono Di un progetto appena uscito Vuol dire che hanno speso Molto di più sul marketing Ok Che sul progetto stesso Molte volte I progetti buoni Non ne conosci Non ne vieni a sentire Finché non diventano Pubblici Ok Quindi Perché di solito Non si concentrano A marketizzare una cosa Che loro ci stanno ancora Lavorando sopra Tipo Holochain Che a me piace molto Cadena Ok Non vedi molta Non vedi molta Pubblicità Da parte loro Poi Il holder Ok Il holder O il hodler O come potete chiamarlo Può essere un investitore Occasionale Che vuole investire Un po' di denaro In criptovalute O alla whale Questa persona Non è interessata A trarre vantaggio Da ogni movimento Del mercato E sta scommettendo Su potenzione A lungo termine Del criptovalute Che si tratta Fa 5, 10, 20 anni Il holder Acquista semplicemente Monete promettenti Al prezzo più basso Possibile E poi li tiene Considerando Considerando Come È andato L'ultimo decennio Del criptovalute Questo potrebbe Non essere Una cattiva strategia Ovviamente Il holder Non è una cattiva strategia Se tu ovviamente Sai quello che fai Scommettendo Scripite valute Più stabili Però La parte che dovete capire È che io inserito Anche la parte di Acquista semplicemente Monete Prezzi più bassi Possibili Cosa che non molti Vi dicono Quando vi dicono Di holdare Vi dicono Ah compra 30, 60, 70 Non importa Per me non è così Comunque Scommettendo Sulle criptovalute Più stabili Quindi stabili Non i progetti Scam Che mostrano Promesse di longevità Quindi Che sa che a lungo andare Rimarranno Questo è un approccio A basso rischio Quindi non abbiamo Molto rischio E a basso stress Quindi sapete Che lo stress Che viene eliminato E che si tratta E che si adatta A molti investitori Quindi chiunque Può farlo Anche chi non sa niente Specialmente Quelli che non vogliono Guardare i mercati Troppo spesso Metterei io Questa strategia Può essere migliorata Con una buona lettura Dei chart E dei punti chiave Dove aumentare E diminuire I propri pack Come facciamo noi Ok Quindi Molta gente Mi dice Non ho tempo Di fare Noi non mandiamo Molte zone di pack Sono sempre quelle Dal 2022 Un po' le muoviamo Un po' le aggiustiamo Ma sono sempre Le stesse chart Quindi uno mi dice Non ho tempo Non hai tempo Cosa? Di prendere un minuto Alla settimana Aprire il chart Di bitcoin E vedere Dove è la zona di pack O aprire il chart Di ADA Non ci credo Quindi Se volete essere investitore Un minuto Alla settimana Potete trovare Però Certa gente Dice che non ha tempo Rispettando le zone Di oversold Overbought Su alti time frame Elevati Come il giornaliero O il settimanale Ok Quindi solitamente Il holder Non usa L'orario Ma usa il giornaliero O il settimanale Ok Questa è una tecnica Che io uso spesso Io ci accompagno Il 4 ore Per un'entrata Più millimetrica Certe volte Più chirurgica Il over diversificatore Ok Questi sono dei miei preferiti Che ho visto Molta gente A rinunciare A questo tipo Di investimento Però Dopo Tempo Che ne abbiamo parlato Possiedono Molti tratti Caratteristiche Del former Questo tipo Di investitore Non hanno ancora Imparato Che le opportunità Nel mondo Delle criptovalute Non mancano Quindi come sapete Tutte le volte Che uno entra In fomo Io dico Stai tranquillo Non hai perso Il party Il party c'è Tutti i giorni Tutte le settimane Tutti gli anni Devi soltanto Aspettare Che avvi il tuo momento Quindi Non mancano mai Le opportunità Sono così spaventate Dall'idea Di perdere Un'opportunità Di guadagni Di enormi guadagni Che finiscono Per investire In troppe monete Quindi Diversificano Comprano qualunque cosa Che gli passa sotto Il naso Di solito Pensando di scommetterlo Su un gruppo Di cavalli vincenti In un giorno Si svegliano Scoprono di possedere Da 50 a 100 monete Qua un po' esagerato Però veramente Gente c'era Tante La maggior parte Delle quali Non capiscono davvero Non ricordano Di aver acquistato Quindi molta gente Mi ricorda Mi ha detto Oh mi sono appena accorto Che avevo comprato Questa moneta Nel 2020 Ok Perché vuol dire Che non Non sapevi Nei cosa compravi Se questo ti descrive Non preoccuparti Non sei solo Questo succede A molti neofiti E puoi strutturare Il tuo portfolio Per renderlo più efficace A gestire se sei d'accordo Con alcune perdite Ok Quindi dovresti Prendere alcuni hit Tirare via un po' di merda Prendere un po' di liquidità E rinvestire quei soldi In una cosa migliore Tuttavia dovresti sapere Che non è mai Saggio investire In più monete Di quelle che puoi Tradire a traccia Questo ve lo dico sempre Conoscere un progetto Dentro e fuori Rimane Rimanere aggiornati Su tutti gli ultimi annunci È il modo migliore Per sapere Quando acquistare E vendere E tenere un asset Questo non è davvero possibile Quando possiedi Centinaia di monete Ok Diversificazione Oltre le criptovalute Anche le criptovalute Siano La finanza Del futuro La vera diversificazione Implica La suddivisione Del portfolio Totale Tra una varietà di classi Di attività Quindi questo Se andate a rivedere La cosa che avevamo fatto Sul portfolio management Come gestire il proprio portfolio Rispecchia molto Quello che Più o meno Quello che vi suggerisco Quindi non ripeterò Andate a vedere il video Quello di come gestire Il proprio wallet Portfolio E lì Ne spiega molto Come diversificare Altre classi di attività Come immobili Azioni Obbligazioni Oro Possono dare al tuo portfolio Totale la diversificazione Di cui hai bisogno Per resistere A qualunque cosa Il mondo Il mondo Li lancia Quindi per avere Un portfolio Stabile A lungo andare Senza essere Beer market Piangi Per anni Bull market Sei felice In euforia Beer market Piangi Quindi devi essere Stabile Anche a livello Motivo Quindi diversificare In diversi Assi Mentre alcune persone Commerciano Escrivamente Criptovalute Non esiste Altro mercato Che abbia Una barriera Di ingresso Sistemamente Bassa E così tanto Potenziale I guadagni Cambiano la vita Questo lo sappiamo Tutti Ma hai detto Che non dovresti Fare affidamento Sulle criptovalute Per il tuo Reddito Regolare Quindi non pensare Che le criptovalute Possono darti Una cosa regolare Lì ci sono altri Tipi di investimenti Come i dividendi O non so Ci sono gli stock Alcuni Growth stock O ci sono gli immobili Per esempio Dove puoi investire O ci sono Ci sono tantissime cose Dove puoi investire Che ti danno guadagni Anche regolare Durante l'anno La volatilità Del mercato Dei criptovalute È ciò che attrae Le persone Perché vedono PAMP Secessivi Assolutamente Guardano solo i PAMP Ma puoi anche Rivelarsi Altamente rischioso Se si investe Troppo in criptovalute Ovviamente Questo lo sapete già Questo è un discorso Che non avrei mai potuto Fare nel 2021 Però ovviamente Adesso che avete visto Il bear market Posso farlo Esistono mercati Di bassisti Periodi di Prezzi Delle attività Depressi Cioè il bear market E molti trader Esperti Di criptovalute E hanno anche investimenti In altre classi Di attività Questo è importante Poi ultima parte La parte psicologica Quindi andiamo a vedere Un attimo Le emozioni Alcune emozioni Classiche Dei maggior trader Investitori Sono impazienza Eccitamento Troppa confidenza Speranza Rimorsi Paura E panico Ok quindi penso che Almeno una di queste Se non tutte Le avete già incontrate Nella vostra vita Da trader Ok Quello che un trader Un investitore Deve sviluppare Quindi questo Dove dovete arrivare Quindi voi siete qui Ok Capite che voi La maggior parte Di voi penso Non tutti La maggior parte Di voi è qua Quindi paziente Eccitamento Troppa confidenza Speranza Rimorsi Paure Panico Ok Quello che invece Voi dovete arrivare Quindi il vostro goal È Disciplina Intuizione Ok Quindi quello che io C'ho per alcuni Investimenti Come quello che vi Di parlo Quindi intuizione Questo avviene solo Con l'esperienza Pazienza Quella che vedo Che nessuno ha Certe volte Soprattutto durante I dump O i mega pump La pazienza E Il Focus Cioè la concentrazione Concentrarsi su una cosa Questa è la winning mindset Questa è presa da google Winning mindset Ok Quindi la mentalità Vincente Ok Questo è un esempio Di trade Mi piace tantissimo Questa Questo è un esempio Di short trade Quindi un esempio Di uno che vuole Shortare il mercato Probabilmente molti Si Si riconosceranno qua E praticamente dice Nella prima parte Segnale ad entrata Ok Quindi hai il segnale ad entrata Ma non entri Perché aspetti Una conferma Ok Quindi qua Questo è il tuo segnale Ma dici No no Aspetta una conferma Poi Aspetti il ritracciamento Per entrare nel trade Quindi aspetti il ritracciamento Ma il ritracciamento Non arriva No Scusate Aspetti il ritracciamento Ovviamente in questa zona Dice che aspetti il ritracciamento E il ritracciamento Poi Quando arriva in questa zona Il tracement come Along Ma pensi di aver già perso Il grosso Quindi guardi indietro E dici Ah cavolo Ma è già sceso tanto Quindi Non entro qua Perché è già sceso Allora questa è la mentalità Poi il prezzo continua A ribasso Ed inizia a impanicarti Perché hai gestito male la cosa Quindi Da qui dici No ma è già sceso troppo Aspetta un attimo Magari un po' più in su Che ritracci qua Scende di nuovo E qua comincia a dire Cavolo Dovevo entrare qui Ok E cosa succede Alla fine Decidi di entrare Qua Ok Decidi di entrare qua Il prezzo ti va contro E lì dici Oh compro io Il prezzo va su O vendo Il prezzo va giù Ok Quindi questa È una descrizione Generale Di quello che può succedere Durante un trade Questa potete applicarla Anche ai long Ok Solitamente questo succede Ok Aspetto il ritracciamento Il ritracciamento Spera Arriva Ma è già andato troppo su Aspetto ancora Poi Continua a salire Alla fine Decidi di entrare Impazzisci Questo succede Anche con gli investitori Non investono Non investono Poi alla fine Quando la cosa Continua a salire Dicono Sai una cosa Io entro Basta Entrano solitamente Nel momento sbagliato Ok Quindi questo Solitamente Comunque ragazzi Questa è La parte Intanto di psicologia Che volevo riprendere Con voi Perché penso Di averla vista Molto In questo mercato Soprattutto Quando è successo Il dump Due settimane fa Che poi La cosa Che mi ha Un po' Anche mi dispiaciuto È che Durante il dump Molta gente Ha voluto uscire Addirittura Dalla community Arrabbiata Mi devo prendere Un momento di pausa In un momento In cui Secondo me C'era un'opportunità Pazzesca Quindi il momento In cui c'era Un'opportunità Pazzesca A me mi è dispiaciuto Che questa gente È uscita Arrabbiata Anche Perché non ha capito Che Doveva solo Aspettare Quel momento Quello è il momento In cui Che stavate aspettando Ma la gente Non l'ha capito Anche se Per mesi Diciamo Ha promosso Le zone di pack Di aspettare Di attendere Per pazienza Quindi questo L'ho visto succedere Parecchie volte Ovviamente Finchè non riuscite A gestire A questa parte Io non posso Nessun Nessun servizio Potrà mai gestirla Per voi A parte parlarne Condividere Fare errori Gestire gli errori E capire che Le perdite Sono solo Il gate Quindi l'inizio Del successo In qualunque campo Per rendere Delle perdite Ok Come chi Apre una compagnia Il primo anno I due Non so se qualcuno Di voi ha un'attività Qua Il primo anno I due Sono solo sberle Molto probabilmente Poi la compagnia Comincia a andare bene Il mercato E gli stock E gli investimenti I trader Di solito Sono così Il primo tempo Il primo anno Due Dipende da voi Sono solo sberle E poi comincia A andare bene Quindi è come un'attività Ok Soltanto che L'accesso È un po' più Secondo me Se la gestite bene Richiede meno soldi Di un'attività Ok Perché Io ho avuto anche Un bar in Italia Speso solo per Iniziare ad aprire la porta 25 mila euro 30 mila euro Ma non ho avuto niente Di mio in mano A parte qualche bottiglia E poi quando ho dovuto Lasciarlo Il resto era tutto a cartaccio Documentazioni Tutte cose Che non erano materiali Che potevo toccare E parliamo di 25 30 mila euro E avevo tipo 20 anni a quei tempi E lì ho capito Lo scam Di alcune attività In alcuni paesi Ok Non dico che tutto è così Però Molti bar vanno bene Però L'accesso A certe attività Costa tanto E c'è un altissimo rischio Tu entri con 25 mila euro E rischi di perderli tutti Nel mercato delle criptovalute Con 25 mila euro Se tu inizi A investire Mille Due mila Ogni mese Alloccarli bene Farle analisi 25 mila euro Puoi trasformarli In 200 300 400 mila euro Nel giro Di 4-5 anni Ok Se gestiti bene Ovviamente Se vai all in Dentro A una meme coin Li perdi tutti In un giorno Però Spero non sia Questo il caso E quindi Ho scoperto Che la barriera di ingresso Negli investimenti Era molto più bassa Mi bastava investire Quei 100 200 Quei 1000 Quei 500 Che avevo Occasionalmente Nei punti giusti E aspettare Semplicemente Era come investire In altre compagnie Quindi lasciare Che altri facessero Apple O altri facessero La compagnia E investivano Il loro valore E il loro valore Decresceva Ok Quindi Quando ho scoperto Sto trucco Ho detto Perché aprire altre attività Per spendere 40 50 100 mila euro Per guadagnare 1000 euro al mese 2000 euro al mese Piuttosto Quei 100 mila euro Me li metto da parte Investo nel mercato Piano piano E aspetto che nel futuro Vengono apprezzati Questi Questi asset E ha funzionato Per me E continua a funzionare Quindi spero che Funziona anche Per voi un giorno L'unico problema È che c'è Velo sogno Di pazienza Ok Comunque ragazzi Spero che vi sia piaciuta Questa lezione L'abbiamo fatta Non so quanto è durata Vediamo che sono Ok 20 e 40 Quindi più di un'ora Ok Quindi è durata abbastanza Comunque Premendo tutto Adesso spengo Il recording